Giustizia riparativa al centro dell'evento formativo organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Verbagna, come mai questa giornata? Perché la giustizia riparativa introdotta dalla riforma Cartabia è una delle scommesse principali della riforma Cartabia. Noi siamo abituati a vedere la giustizia penale come basata soltanto sul processo e sulla sanzione nei confronti del Reo. Attraverso la giustizia riparativa, attraverso il percorso di giustizia riparativa, si guarda la vicenda penale in una prospettiva diversa. Non soltanto rispetto al discorso del processo e della sanzione che evidentemente rimane, ma anche nell'ottica di cercare di costruire un percorso che permetta al Reo e alla vittima, per quanto possibile, di avvicinarsi. Quindi strutturando un vero e proprio percorso che attraverso la mediazione, attraverso vari strumenti, possa portare il Reo a comprendere il disvalore del fatto e anche alla vittima di percepire anche le motivazioni e quindi essere più consapevole di quanto è successo anche per aiutarlo a superare evidentemente quello che è successo. Quindi è una modalità che cerca di venire incontro non soltanto al Reo, ma anche e soprattutto nei confronti della vittima, che è un soggetto che nel processo penale tende spesso ad essere un po' dimenticato. Perché il processo penale è principalmente un processo nei confronti di chi è accusato di aver commesso un certo fatto. Un percorso sicuramente innovativo e interessante, ma che comporta un grande cambio di mentalità. Certo, la giustizia riparativa a mio avviso richiederà nell'ambito delle persone un cambiamento epocale, perché si tratterà di mettere in contatto attraverso l'avvocatura e la magistratura la vittima del reato e l'autore del reato, che potranno trovare anche una soddisfazione, non soltanto magari morale, ma anche risercitoria del reato commesso. Purtroppo questa riforma della giustizia riparativa non è attualmente ancora in essere, perché i centri giustizia riparativa previsti dalla riforma non sono ancora operativi nel Verbano Cusiossola, ma anche in altre parti dell'Italia. Quindi oltre ad un cambiamento epocale stiamo aspettando che vengano formati anche questi operatori professionali che possano attuare i principi della riforma cartabia con la giustizia riparativa. Cosa succede?